Questa è la casa del matrimonio. Ma che è una villa, un comune, che ne so? Villa Tittone. Madonna. Vai, il matrimonio. Aspetta, aspetta. Salve. Questi gli anelli. Facciamo una cosa classica che l'accompagniamo. Oddio. Che meraviglia gli anelli. Belli, eh? Sai latina, eh? Sai latina. Ho tutto a niente. Il mio piccolino. Mi ha allucinato. L'hai fatto? No. Non hai dormito. Ridi, ridi un po'. Perfetto, no? È già un po' gottier, è già un po' gottier, ragazzi. Tira, tira. Se vediamo se... Si, 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 si. Si, si. Si, si. No, no, no... vogliamo prenderci di paura? vai Franco lei voleva lavorare in televisione la lettura dell'auto è tutto quello che è stato fatto quello che più importa è la tv e sei l'ufficiale celebrato? si allora io stavo quasi per piangere anch'io stavo per piangere ecco perfetto attenzione s'il vous plait alla vie de la france ma però dai arrivo un attimo arrivo un attimo adesso la facciamo vediamo se riusciamo 3 2 1 vai sono la combora da anella giovanna si è sposata e adesso andiamo tutti a rilassarci in un bel ristorante l'imperatore l'imperatore in piazza Firenze in piazza Firenze il posto più chic di Milano il posto più chic di Milano alla faccia di tutti a dopo a dopo brava brava lei ha preso il buchetto col pappa dietro si il buchetto ferma la bomboliera del matrimonio di mia mamma bella bella buonissima ma sono buonissima ma sono buonissima grazie perché io sto girando il reportage del matrimonio e ora che vi siete sposati che siete marito no marito e moglie siete contenti? dai devi dire di si di si si tu si andrete a fare un viaggio adesso vero? certo per lunedì dai è stata una giornata meravigliosa ha piovuto soltanto quando avevate sposarvi ora datevi un bacio che vi faccio il filmino dai dai wow bellissimi belli 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 grazie franco e quello che non fa tuo fratello lo fa te hai visto? dai la sposa va via 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 ciao 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 grazie noi sentiamo dai vi vuoi bene? tanto da morire anch'io tanto ciao ascolta poi ciao dai c'è la telecamera che mi dice le cose vai in macchina che fa la ripresa ciao ciao ciao